Elezioni comunali di State. Gli abitanti di questo comune della provincia di Taranto saranno chiamati al voto nei giorni del 3 e 4 ottobre. Si ripresenta il sindaco uscente, Franco Andrioli, che ho al mio fianco. Siamo qui presso il municipio statese. E allora, sindaco, lei chiede di nuovo la fiducia, il consenso ai cittadini, evidentemente sulla base dell'operato di questi 5 anni. Ecco, così tracciamo un bilancio delle attività amministrative più significative. Sicuramente è un bilancio positivo. 5 anni di duro lavoro insieme a tutta la mia squadra che abbiamo portato a termine, abbiamo completato alcuni lavori, altri lavori sono ancora in lavorazione e in fase di completamento. Dico 5 anni di duro lavoro perché lavorare in un'amministrazione non è facile progettare, andare a prendere i soldi. Cioè non è che i soldi piovano da qualche parte, i soldi bisogna, si hanno e si ricevono dalla regione, dalla comunità europea o dal governo se si presentano dei progetti e dei progetti fatti, dei progetti che siano credibili. Noi abbiamo presentato tanti di quei progetti e buona parte, molti di quei progetti sono stati accettati. Abbiamo accettato, hanno accettato ultimamente il progetto per un canile sanitario, la regione ha dato al comune 950 mila euro. Sono soldi che abbiamo presentato un progetto e siamo stati, o il primo o il secondo comune a presentare questo progetto e per me questo. Perché? Perché avevamo un progetto pronto come è uscito il bando e l'abbiamo presentato. Ho sottoscritto circa un mese fa insieme al sindaco di Tanto, la regione e il ministro dell'Ambiente un protocollo di 5 milioni e 3 per la bonifica della gravina. E quindi sono soldi, presentati i progetti ed avuto. Abbiamo presentato altri progetti che sono andati in porto, abbiamo fatto una pista ciclabile che è invidiata da tutti. Abbiamo demolito già un asilo in viatriglie e stiamo per ricostruire un nuovo asilo, dare come dire ai ragazzi una nuova strategia, un nuovo modo di fare un asilo ex novo per i bambini piccoli. Abbiamo in mente di realizzare un polo scolastico nuovo e abbiamo presentato al governo circa 28 milioni di euro, progetti per 28 milioni di euro. Che a breve avremo una risposta di questi progetti, quali saranno accettati e quali non saranno accettati. Abbiamo finalmente stati, i cittadini di stati, me compreso, finiranno di andare in giro agli altri poli ambulatorio. Credo che a breve sarà pronto il nuovo poli ambulatorio che è sorto in una zona dove c'era l'ex mercato coperto. Credo che a fine mese, l'inizio di ottobre, taglieremo anche quel nastro e quindi daremo sollievo ai nostri concittadini. Ma in quella struttura ci andrà pure il 118, andranno tutti e nuovi medici e quindi finirà questo trambusto di stare rinchiusi in un piccolo appartamento di medici. Ci sarà una sala convegno. In più abbiamo anche fatto un centro nuovo, sempre nel poli ambulatorio, dove adesso siamo ospiti della scuola Amaldi. Quei bambini, io li chiamo sempre bambini, ma sono ragazzi di 50 anni, 55 anni, alcuni dei quali hanno perso pure i genitori e quindi diventa un problema serio. E quindi tutti questi bambini andranno in questo poli ambulatorio in uno spazio di circa 300 metri, tutto allestito. E' una cosa bellissima. In più abbiamo presentato un progetto definitivo, ma stiamo dando in carico, i tecnici stanno dando in carico ad un progetto esecutivo per il dopo di noi, che verrà costruito a fianco alla farmacia di noi, perché questi ragazzi hanno perso i genitori e hanno delle disabilità. Noi ci siamo posti il problema dove andranno a finire se non ci fosse una struttura in paese. E quindi abbiamo pensato pure a questi. Abbiamo già un milione e quattrocentomila euro da parte per fare questa cosa, questo grosso stabile. Quindi c'è tanta di quella carne, abbiamo asfaltato tante di quelle strade, perché una cosa è che qualcuno dice che le strade non sono l'ultima cosa. Da 30 anni non si asfaltavano le strade astatte, abbiamo asfaltato diverse strade, altre abbiamo in progettazione di asfaltare. Quindi un paese che cambia. Se voi vedete l'ingresso di Stato lo stiamo proprio trasformando con un ingresso bellissimo, un decoro da dare al paese e quindi tutte le persone non fanno che farci, come dire, finalmente state, se ne accorgono tutti che sta cambiando. Questa è la verità. Magari noi che viviamo nel paese è come quando si cresce un bambino, il genitore lo vede crescere giorno dopo giorno, non se ne accorge che diventa grande. Ma una persona che viene da fuori si accorge che il paese sta cambiando. Abbiamo la possibilità, e qui so di prendermi le critiche di tutti, noi avevamo messo nel vecchio percorso di fare una tenso struttura a un palazzetto dello sport, oggi la ragioneria mi dice che siamo nelle condizioni, qualora non dovesse arrivare i fondi dallo Stato, di fare una tenso struttura. Siamo nelle condizioni di fare un mutuo per fare questa cosa qua. La cosa importante è che Statte, e questo per me è un punto di orgoglio, Statte rientra nei giochi del Mediterraneo. Noi non dobbiamo vedere se Statte è una cosa sicura, tranquilla, rientra nei giochi del Mediterraneo. Quindi tra i 29 comuni della provincia, Statte è uno di questi comuni. E questo è un altro fiore all'occhiello per la nostra cittadina. Verranno a fare gli allenamenti sulla pista d'atletica nel nostro territorio, e quindi io non posso che essere orgoglioso di questo fatto qua. Sicuramente mi sta sfuggendo qualche altro lavoro che abbiamo in itinere da fare, le bonifiche le stiamo facendo. Le bonifiche è un qualcosa che non si vede realizzato, perché molto probabilmente o si lavora sul top soil delle bonifiche, si va in profondità. Ma la cosa più importante è che siamo il secondo paese in Italia che sta facendo un progetto per vedere nel sottosuolo che cosa ci sta. Questo progetto l'abbiamo fatto in sinergia con il CNR, che è un istituto, come dire, che è un fiore all'occhiello, e quindi ci siamo avvarsi di questo istituto per portare a termine questo progetto. Sindaco, anche abbiamo avuto modo di vivere insieme diverse iniziative culturali, il supporto alle varie mostre dei presepi culminati, lo ricorda, con la visita a Roma dal Papa, dal Santo Padre, varie iniziative culturali che hanno anche caratterizzato questa estate. Sicuramente si parla tanto di cultura, io dico che noi siamo all'avanguardia, abbiamo alcune associazioni che sulla cultura sono in primo piano, andare a Roma ad esporre un presepe, dove potete vedere sulla mia sinistra un quadro dove io sono fiero ed orgoglioso di parlare con sua santità, non può essere che una cosa bellissima questa qua. Quest'anno ci stiamo riproponendo per andare a Roma ad esporre qualche altro presepe, state a una scuola di presepi e nei 28 milioni che abbiamo chiesto al governo abbiamo messo anche la ristrutturazione di uno stabile di proprietà del Comune per fare proprio una scuola dei presepi, per fare una mostra permanente dei presepi, che non è una cosa di poco conto. Tenuto conto che Taranto sta anche cambiando, finalmente a Taranto arrivano le navi da crociere, e quindi chiederemo se i turisti che scendono possono fare, come dire, tappa statte per vedere sia il dolmen, sia questa mostra dei presepi, con l'artigiano dei presepi, che è proprio una cosa bellissima e quindi questo è un altro punto d'orgoglio che noi abbiamo per la nostra cittadinanza. Ecco, Sindaco, il rapporto con i cittadini. Lei è un sindaco di strada, tra virgolette, nel senso che trascorre certamente le sue ore in ufficio, ma predilige il rapporto diretto con i cittadini, proprio andando a verificare, come dire, deviso le varie situazioni. Anche in questo senso, questo rapporto proprio diretto con la città. Ma il sindaco deve essere il sindaco di tutti e quindi se non si rapporta con i cittadini nel centro delle strade, nelle vie periferiche, questo non è un sindaco. Io sono stato abituato dall'inizio, quando facevo già l'assessore dei lavori pubblici, stare sempre tra la gente e con la gente, ascoltare le critiche, prendere spunto dai cittadini e tentare di migliorarlo. Certo, il tutto non si può fare, sarebbe come dire una cosa bellissima, ma piano piano il Paese sta cambiando. L'ultima cosa che abbiamo fatto è anche la pubblica illuminazione, stiamo cambiando anche tutte le luci distanze, stiamo mettendo tutte le luci a led e quindi stiamo dando un target diverso proprio al nostro Paese. Le persone, vengono alcune persone e dicono ma a me la luce non viene cambiata. No, verrà cambiata. Allora, questa è una cosa che deve essere tranquilla a tutti. Le luci verranno cambiate in tutto il Paese, quindi dalla prima all'ultima è una questione di tempo, l'azienda sta lavorando e quindi date il tempo di passare da una strada all'altra ma le luci verranno sostituite in tutto il Paese. Un altro settore importante è quello del sociale, in che modo vi siete mossi? Ma quest'anno per la prima volta abbiamo ridato, come dire, vigore ai ragazzi meno ambienti, abbiamo fatto anche una colonia. Sono partiti due turni da 16 bambini, l'uno a Camigliatello per una settimana. I bambini, io li ho attesi al ritorno, erano entusiasti di questa settimana che hanno passato lontano dalle loro famiglie e quindi è una cosa bellissima e ci stanno già richiedendo di riproporlo il prossimo anno. Sicuramente è una cosa che sarà riproposta e sarà rifatta il prossimo anno. Un'altra cosa bellissima che abbiamo fatto durante questi nostri cinque anni è quella di autotassarci con il compenso che ci dà l'amministrazione del 10% e abbiamo messo insieme delle borse di studi che abbiamo dato dai ragazzi che finiscono la scuola media alle scuole superiore. Dalle scuole superiore a martedì, tempo permettendo, daremo le ultime borse di studio e se i cittadini lo vorranno, noi continueremo a fare questo lavoro ed autotassarci come dire per dare un sollievo a questi ragazzi ed invogliarli sempre di più a studiare. Concludiamo con l'appello al voto. Faccio immagini di avere dinanzi a sé ogni cittadino. Perché votare Franco Andrioli? Perché votare i candidati al Consiglio Comunale della sua lista? Io credo che abbiamo dato una dimostrazione di essere una squadra compatta e di aver lavorato per il bene dei nostri concittadini. Abbiamo ascoltato tutti, abbiamo tentato di tirare quante più risposte possibili e io vorrei chiedere ai cittadini ancora una volta il voto di proseguire per completare l'opera che abbiamo iniziato. Lasciate un'opera a metà, non mi sembra una cosa giusta. Ci sono diversi cantieri aperti e altri che devono partire a breve e quindi la cosa più che piacerebbe di consegnare questo Paese cambiato del tutto in tutto. Grazie a tutti.